Alessandro D'Alessandro, il primo cittadino di Orsonia, si accinge ormai alla conclusione della sua attività amministrativa pluridecennale, nel senso che oltre ad aver ricoperto il ruolo di sindaco per due mandati, è stato anche consigliere nella giunta a Montepara precedente e quindi si accinge anche a chiudere la sua esperienza politica dopo aver dato tanto al suo paese e che ci riassume sinteticamente in questa intervista. Spero di aver dato tanto, sicuramente abbiamo cercato di fare insieme a chi mi ha accompagnato il meglio, sicuramente non è stato semplice per il fatto che si è operato in un contesto economico, sociale molto difficile, è stato un po' che il comune denominatore dell'esperienza è un po' di tutti noi amministratori, soprattutto nei piccoli comuni. La difficoltà principale è stata soprattutto operare in un contesto normativo che spesso, soprattutto negli ultimi anni, lo definirei schizofrenico e ci ha un po' ridotti, ha un po' a meri esattori per far quadrare i conti non sempre comunali ma soprattutto degli enti regionali e soprattutto statali. Nonostante tutto però bisogna essere propositivi e positivi e lo sono, in funzione anche di queste difficoltà i risultati conseguiti li reputo ancora più importanti, su tutti quelli legati alla scuola. Proprio in questi giorni si parla di necessità di porre attenzione alle strutture scolastiche noi possiamo penso dire che tanto è stato fatto in questo settore per garantire la sicurezza ai ragazzi sia nelle scuole elementari e nelle scuole medie, anzi a proposito posso comunicare che proprio per le medie un finanziamento lo abbiamo ricevuto in questi giorni e proseguiremo la strada della messa in sicurezza delle strutture molto importanti per il nostro territorio. Per garantire proprio un equilibrio comunale importante è stata anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico senza attingere alle casse comunali, quindi senza contrarre mutui, con il leasing ed è proprio il primo anno di produzione che ci ha garantito un introdito di 150 mila euro e da ultimo l'opera che stiamo proprio in questi giorni realizzando un nuovo asilo nido con un finanziamento completamente a fondo perduto che consentirà anche lì alle famiglie di contare su una struttura molto importante. Dal punto di vista ambientale penso di poter sottolineare il raggiungimento di una importante percentuale per la raccolta differenziata, cioè il 70%. Rientriamo tra i famosi 35 comuni che ormai stabilmente sono sopra la soglia del 65 che consente di evitare l'ecotassa e soprattutto di concorrere come stiamo facendo anche ad alcuni bandi che consentono di acquisire più punteggi se si hanno percentuale alte. È stato possibile grazie anche alla disponibilità dei cittadini e all'allargamento del porta a porta su tutto il territorio. Dal punto di vista culturale, chiudo qui questa breve sintesi, anche le attività culturali. Orsonia ha sempre ricordato con le amministrazioni o anche come proprio territorio importanti personalità tra cui Cecca Rossi, Domenico De Nardis e lo abbiamo fatto in questi anni con diverse attività e abbiamo sostenuto molto l'associazionismo locale. Si sono state attività importanti portate avanti dalle associazioni del territorio, le tappe importanti quelle del coro, la figlia di Orio che ha raggiunto i 90 anni, del teatro di Plinio, le importanti attività del circolo artistico, dei talami, la nostra attività storica per eccellenza. Tra tutte anche un'importante attività è quella dell'aver dato vita al teatro ancora di più con l'affidamento in gestione a un'associazione, i Guardiani dell'Oca, che ha consentito l'allargamento delle attività, delle proposte nel nostro teatro Camillo De Nardis che ha consentito di far vivere questa nostra struttura in una realtà medio-piccola. Quindi ringrazio anche quell'associazione e soprattutto l'amministrazione che in questi anni mi ha accompagnato in tanti traguardi importanti in un contesto, come dicevo prima, difficile. Quindi per il resto, come dicevi tu, chiudo questa mia esperienza amministrativa perché reputo che dopo un'esperienza di 10 anni, in aggiunta agli altri 5 fatti con Fabrizio Montepare sia giusto lasciare spazio ad altri sperando di aver fatto il meglio per la mia comunità.